Musica Telespettatrici e telespettatori di Casa Rossini, buongiorno e benvenuti, benvenuti in visione di questo nostro programma, di questa nostra diretta. Sono le 10 e un minuto, adesso due minuti e come ogni lunedì, mercoledì e venerdì noi siamo qua per farci questa chiacchierata mattutina con una sequenza di ospiti che vi presento però fra un po'. Per adesso vi dico solo e vi ricordo i contatti 351 708 9977 è il numero di Whatsapp per mandarci messaggi di testo, vocali e poi ne parleremo, video e insomma tutto quello che vi serve per mettervi in contatto con noi. Casa Rossini, chiocciola rossinitv.it, la stessa funzione però con un altro strumento che è quello della mail, oggi è mercoledì e siccome questo è il mese perfetto come ho già avuto modo di dire lunedì, essendo mercoledì, terzo giorno, 3 febbraio, facile, questo mese è proprio facile, facile, facile e allora andiamo a vedere che cosa ci riserva questa giornata. Innanzitutto il sondaggio del giorno, mi raccomando già cominciate, potete già cominciare a votare per il sondaggio del giorno, sempre temi divisivi molto molto importanti e rilevanti, andiamo a scegliere, naturalmente sono ironico quando dico questo, il tema, il sondaggio del giorno vi dividerà tra quelli che preferiscono i messaggi vocali e quelli che preferiscono i messaggi di testo. Ecco, questo è il classico messaggio vocale ancora da ascoltare, come vedete, poi diventa azzurro quando l'avete ascoltato e poi naturalmente non ve lo ricordate più, dovete riascoltare un'altra volta. Il messaggio di testo almeno ha la particolarità di essere scritto e visibile e di rimanere lì e di non avere bisogno di essere riascoltato ogni volta, ma questo non deve influenzare il vostro sondaggio. Mi raccomando, fate la vostra scelta. Il giorno 3 febbraio è il 34esimo giorno del calendario gregoriano, mancano 331 giorni alla fine dell'anno, secondo il nostro librone di riferimento per quanto riguarda le giornate, il libro si chiama Personology, poi ci andremo più tardi per andare a scoprire qualcosa dei nostri ospiti, oggi è il giorno del realismo rigoroso. Oggi non è nessuna giornata in particolare, sapete che ogni giorno di solito è la giornata dell'altra cosa, oggi no, ma ieri, ci piaceva segnalarlo, 2 febbraio era la giornata delle zone umide, per dirvi quante cose si possono celebrare in giornata. È stata istituita nel 1997 per aumentare la consapevolezza sul valore delle zone umide per l'umanità e il pianeta. La manifestazione è cresciuta nel corso degli anni, insomma sono 24 anni che va avanti, qualcosa di queste zone umide, che non è che le vogliono prosciugare, cioè umide sono e umide restano, ma sono importanti per la vita e la salute del pianeta. La chiesa cattolica celebra San Biagio di Sebaste, noto come San Biagio e basta, in alcune varietà dialettali San Biasio, medico, vescovo della sua città e santo Armeno. Vediamo qualche evento storico del 3 febbraio. Nel 1865 la capitale d'Italia viene trasferita da Torino a Firenze, pensate un po', magari qualcuno non lo sapeva, è stata capitale Firenze per 6 anni, dopo 6 anni il 30 giugno del 1871 è stata trasferita a Roma. Lì abbiamo visto Torino, vediamo questa bellissima immagine di Firenze e poi dovremmo forse vedere anche, ecco questo è un quadro però che riporta a Roma. 1957 prende avvio sulla rete RAI il programma nazionale e il contenitore pubblicitario Carosello, che negli anni diventerà indice del cambiamento delle abitudini degli italiani a causa oppure grazie alla televisione. Qui sono alcuni personaggi che quelli che hanno un'età come me riconoscono, qui addirittura sulle famose strisce pedonali di Abbey Road passano alcuni personaggi come la linea di Cavandoli, l'omino della Bialetti, Susanna e Calimero e il Carosello è diventato determinante, è stato questo grande contenitore, c'era anche il famoso detto per mandare a dormire i bambini, dopo Carosello tutti a nanna, io ero uno di quelli fino a quando finalmente poi crescendo d'età mi hanno anche permesso di guardare qualcosa dopo Carosello. 1959, in un incidente aereo in Iowa, probabilmente a causa di una forte nevicata, perdono la vita Buddy Holly, Richie Valens e Big Bopper, impegnati nel Winter Dance Party, era un tour musicale, si erano esibiti alla Surf Ballroom di Clear Lake, si erano subito rimessi in viaggio in aereo per andare allo spettacolo successivo che dovevano tenere nel Nord Dakota, però la serata non era quella giusta e l'aereo è precipitato. Quel giorno, questo giorno, 3 febbraio 1959, è conosciuto da tutti gli appassionati di musica come il giorno in cui morì la musica, anche ecco, vedete il titolo di un film, anche grazie al verso appunto così composto, The Day The Music Died, nella hit American Pie di Don McLean. Nel 2015, e quando abbiamo scritto questa cosa, l'abbiamo cercata qualche giorno fa per preparare la puntata, oggi è quanto mai sul pezzo, il dodicesimo presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, si è insediato con cerimonia solenne, 5 anni fa, esattamente come oggi. Dopo, scusate, 6 anni fa, dopo 6 anni, Mattarella è chiamato a pochi mesi dalla conclusione del suo periodo, ha, insomma, questo ruolo importante e ha questa scelta così importante sulla quale non ci soffermiamo. Il pensiero del giorno, non affezionarsi, è una buona cosa, ma anche a questo ci si può affezionare, è una specie di giochetto, un po' un gioco di parole e di riflessioni. A questo punto siamo pronti, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare e siamo pronti per dare il benvenuto alla prima ospite della giornata, Maria Rosa Tomasello. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora, con l'occasione vogliamo ricordare che tutto l'allestimento del nostro studio e del nostro salotto di Casa Rossini è reso possibile grazie a Gulliver Onlus che ci ha fornito di tutto, ad eccezione del vaso che vedete qui, che invece è un prestito di Tiziano Donzelli che abbiamo avuto qua in studio qualche giorno fa e che alla fine ci ha lasciato questa cosa preziosissima della quale siamo molto, molto preoccupati anche perché la guardiamo con molto rispetto e cura e attenzione. Allora, veniamo a noi, Maria Rosa Tomasello, perché è qui la professoressa Maria Rosa Tomasello. Buongiorno, Maria Rosa. Buongiorno, buongiorno. Sono qui per presentare l'Unilit, Università Libera Itinerante, e quindi parleremo di questo. Parleremo di questo. Prima però, Maria Rosa non può sfuggire al nostro librone. Maria Rosa è nata il 7 ottobre, l'anno non lo diciamo mai, non solo in questo caso, ma non lo diciamo proprio mai perché quello che ci interessa è il giorno, perché pare, secondo questo librone, che nella nascita, nel giorno di nascita, si celino delle caratteristiche particolari. Allora, i nati il 7 ottobre hanno una vena di ribellione che prima o poi emerge anche durante la loro vita. Essi credono fermamente in un sistema di convinzioni personali che molto spesso è in conflitto con i costumi della società in cui vivono. Direi che è proprio vero, ma non lo sapevo. E' proprio vero, e non è un ribollente silenzioso, è un ribollente che con l'età si fa sempre più evidente. Questo libro rivela sorprese, poi va avanti, per cui semmai poi dopo è esatto. Allora, tra i nati in questo giorno c'è, ci sono due nomi, un nome lo conosco, ahimè, e l'altro non lo conosco. Questo è Desmond Pilotutu, sacerdote attivista anti-apartheid sudafricano. L'altro, ahimè, è Heinrich Himmler, che è meglio, insomma, il secondo di meno. Gerarca nazista, tanto per capirci, insomma, per quelli che ci fossero persi. Allora, i pregi impegnata, idealista, affascinante. Meraviglia proprio. I difetti non li leggiamo più da un po' di tempo, perché abbiamo visto che poi non tornano, non ci si rivede, tutto. Per cui, dopo aver fatto questo bel quadretto e aver detto che il nome Maria Rosa è un nome composto, in cui Maria, che non è il femminile di Mario, ma questo è un discorso che affronteremo magari quando ospiteremo qualche Mario, significa signora e padrona. Rosa significa, dal tedesco, è l'abbreviazione di Rosamunda, e significa gloria, la donna gloriosa. Per cui, praticamente, abbiamo fatto un quadro perfetto. Siamo pronti. Siamo pronti con questo quadro. Esatto, con questo bel quadro per conoscere un po' meglio, appunto, questa realtà di Unilit, Università Libera Itinerante. La storia di questa Università Libera Itinerante, la struttura, un po' raccontaci un po' di cose. Allora, Unilit, Università Libera Itinerante, oggi APS, che vuol dire Società Terzo Settore Promozione Sociale, è nata nel 1988, quindi ha una storia molto, direi, ragguardevole e importante. È nata con la grande intuizione di Carlo Bode, rettore Carlo Bode dell'Università di Urbino, che, appunto, sosteneva che invecchia chi vuole invecchiare, invecchia chi vuole invecchiare. Questo era il suo motto. E da persona, così, di cultura, proprio qual era Carlo Bode, e subito intuì che le università che già in Europa stavano sorgendo, soprattutto la prima a Tolone, in Francia, erano sicuramente, rispondevano, ed erano, io direi, la coda del 68. La coda del 68, nel senso che, come il 68 ha portato questa grande rivoluzione culturale, negli anni 80, poi sono sviluppate in Europa, in Francia prima, nell'82-83, così, e qui da noi Le Marche è stata la prima con la nostra università del 1988, e avevano proprio questo scopo grande di andare nella direzione di offrire cultura a quelle persone della terza età, perché è nata così, con la terza età, che non avevano avuto la possibilità di acculturarsi nel tempo, che non avevano, non erano scolarizzate più di tanto, senza escludere le persone che poi lo erano, e comunque di portare avanti un progetto di, oggi chiamiamo, di educazione permanente. Per inquadrare le date, nell'88 avevano 50 anni quelli nati nel 38, avevano 60 anni quelli nati nel 28, per cui gente che ha avuto la guerra in mezzo, gente che magari aveva dovuto accantonare l'idea di studiare per dare priorità ad altre esigenze di vita più urgenti. Per cui si sono ritrovati ad avere 50, 55, 60 anni e aver voglia, a quel punto, in un mondo profondamente cambiato, dopo il 68, ma nell'88 già... Sì, però ecco questa cosa, questo eco, mi piace di guardare. Esatto, e a quel punto lì si sono ritrovati a dire, ok, bene, noi adesso avremo anche un po' di tempo, noi adesso avremo anche un po' di voglia, dove andiamo, visto che il percorso universitario tradizionale è precluso, e questa è stata la bella sfida del magnifico rettore Bo, che ha detto bene, apriamo, apparentiamoci con realtà diverse. E infatti l'Unilite è università libera itinerante, libera perché comunque non guarda, cioè non ci sono limiti di età, e non soprattutto è a confezionale, a religiosa, a politica, insomma non ha una provenienza particolare. Itinerante, questa è la grande intuizione, che un po' vuole richiamare ambiziosamente l'Europa iniziale nella sua fondazione. Itinerante, cioè noi facciamo cultura su tutta la provincia, per cui abbiamo con Pesaro nove sedi, che sono appunto quella di Pesaro, dove è la sede centrale, e poi abbiamo delle sezioni che sono Fano, e poi Fossombrone, Cagli, Pergola, Sant'Angelo Invado, Urbino, con Urbino è stata la prima che con Pesaro ha fondato questa università, appunto in collegamento con l'università, con Carlo Bo, e poi si è giunta Fano, e poi le altre che ho nominato, e non vorrei avere lasciato qualche sede... Guarda, guarda, perché io quando faccio gli elenchi mi ne perdo sempre uno, mi perdo anche uno dei sette anni, per cui figurati se non perdo... Cagli, Fano, Fermignano, Fossombrone, Pergola, Sant'Angelo Invado, Urbino, e da ultimo, da quest'anno, si è unita, anzi dall'anno scorso, la sezione di Urbania, e questo è molto bello, perché appunto è itinerante, e noi siamo aperti a questo ingresso di sezioni, che rende il tutto più faticoso, più lavorioso, perché occorre tenere l'unità, e questa è veramente qualcosa a cui teniamo molto, però nello stesso tempo è di grande soddisfazione, insomma, perché, e poi raccogliamo tutto il nostro entoterra, che, insomma, ha necessità di questo. Perché ricordiamo che questo fatto di avere sedi territoriali, sezioni staccate, le possiamo chiamare in mille modi, non è solo un discorso di facciata, di vademecum, di essere messo lì, sono proprio tutte molto attive e propositive, e comunque funzionano tutte come vere e proprie sedi distaccate, con una loro autonomia. Con i loro programmi, con la loro autonomia. Diciamo che il legame profondo è con la sede centrale, perché è un unico direttivo, e via discorrendo, però ogni sezione fa i suoi programmi, che sono in stretta relazione con il territorio. Quindi non sono mai i programmi, i nostri non sono, e poi lo diremo, no, che cosa facciamo. Comunque non sono mai staccati da quelle che sono le culture proprio del territorio, perché se vogliamo motivare gli iscritti, dobbiamo entrare nei loro interessi, e quindi dobbiamo in qualche modo essere vicino proprio culturalmente con queste persone. I nostri docenti sono tutti docenti volontari, e sono però anche preparati per questo tipo di attività, perché fare lezione a dei giovani studenti, scuola, ecco, sì, ecco, qui sì, siamo con il giorno della benedizione, in cui è inaugurato la nostra sede del Vescovo. Bene, qui sono altri momenti che noi abbiamo di conviviali, perché qui abbiamo consegnato delle targhe, questo è il coordinatore Giulio Finocchi, abbiamo consegnato delle targhe, perché era il trentesimo anno dell'Unilitte, e quindi abbiamo festeggiato il presidente e il vicepresidente Giorgio Bacheschi e io. E quindi, insomma, cerchiamo di essere profondamente legati con il territorio, come dicevo prima. C'è una ramificazione territoriale, appunto, non è solo di facciata, ma è anche molto operativa. No, 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 assolutamente no. E da, tra l'altro, la possibilità di avere 500 iscritti. 506, l'anno scorso abbiamo raggiunto, grazie ad Urbani, 506 iscritti. Questo è stato un bel traguardo, anche se comunque questo traguardo lo aveva raggiunto già l'Unilitte nei tempi passati. Ecco, comunque è sempre stato, l'Unilitte è rimasta legata all'Università della Terza Età come sua struttura. E noi pensiamo che la persona adulta debba mantenere forte il pensiero critico, il pensiero caring, il pensiero creativo. Il pensiero critico è un pensiero che sa analizzare le cose. E noi insegniamo, in qualche modo, attraverso argomenti che sono della tradizione, ma con uno sguardo verso il futuro. Quindi insegniamo proprio ad avere, a guardare la realtà con uno sguardo critico, analitico. E anche con uno sguardo che sa guardare in modo altro le cose. Pensiero, dicevo, creativo. Quindi non dobbiamo pensare che gli anziani, dobbiamo dare qualità alla vita. Quindi non dobbiamo pensare che gli anziani siano persone non più creative. No? Anzi, tutt'altro. Ecco, la creatività è questa capacità di saper fare altrimenti e di saper progettare. E un pensiero caring, cioè un pensiero che ci sta a cuore. Cioè noi cerchiamo di offrire materiali culturali che appunto muovano la motivazione della persona. Quindi puntiamo molto sull'emozione e anche sulla relazione. Perché pensiamo che le emozioni siano parte integrante del processo culturale. Senza emozioni il nostro cervello, in qualche modo, rimane razionale, ma non vibra. E quindi noi abbiamo bisogno di farlo anche vibrare. Perché l'anziano ha bisogno di futuro e ha bisogno anche di progetto. Ha bisogno di uno sguardo sereno che in qualche modo lo mantenga nella società, nella cultura in cui vive. Tecnicamente ricordiamo tra l'altro che gli iscritti a Unilit di una sezione possono comunque partecipare all'attività di qualunque sezione. Per cui si possono anche muovere e da lì sono loro che itinerano tutto sommato e si possono muovere anche se difficilmente magari succede per motivi appunto legati all'età o magari a difficoltà a farsi accompagnare, cose del genere. Però diciamo in linea teorica una iscrizione a una qualunque delle sedi territoriali dà diritto a partecipare a tutte le attività didattiche che si svolgono in tutto il territorio. Che ricordiamo non sono la replica della stessa attività riproposta, ma hanno un'autonomia per cui ogni sede propone un suo calendario particolare e una sua situazione distinta. E questo è importante da sottolineare soprattutto per l'argomento che sto per affrontare, che è l'argomento molto difficile. Siamo ovviamente come tutti anche Unilit condizionati dalla pandemia a cambiare un po' i programmi. Unilit è stata obbligata a cambiare i programmi e naturalmente questo cambio di programmazione ha imposto all'inizio una pausa di riflessione perché all'inizio si cercava di capire dove arrivare e poi ripiegare su questa idea dell'online in maniera un po' titubante all'inizio che però mi par di capire che adesso sta prendendo un po' più coraggio. Certo, non dobbiamo nascondere che questa pandemia ci ha messo in grave difficoltà, grossa difficoltà perché comunque noi puntiamo molto sulla cultura e sulla relazione. È chiaro che possa fare un'università rivolta alle persone adulte. E quindi anno scorso, a marzo, abbiamo avuto le nostre ultime lezioni che non abbiamo poi potuto più riprendere e avevamo fatto un calendario per quest'anno, anzi nove calendari perché così ogni sezione, come dicevi tu Paolo, è autonoma. Quindi però non abbiamo visto che anche a gennaio non è stato possibile riprendere in presenza. è stato un momento difficile, difficile perché la nostra utenza non è ben preparata a questo discorso della digitale, insomma queste lezioni online. Però abbiamo detto piuttosto che stare fermi, ecco, abbiamo, ci siamo, diciamo, non dico rassegnati, no, rassegnato non è il termine giusto, però comunque ci siamo adeguati ai tempi, ci siamo adeguati ai tempi. E con sorpresa abbiamo scoperto che tanto è il desiderio e anche la motivazione che tiene legate queste persone all'unelite che si sono collegate, si collegano con nostra grande sorpresa ma anche con nostro grande piacere. La nostra parte è un attimo fa. Stanno avendo successo e questo ci permette anche di avere, continuare ad avere visibilità, a mantenere i contatti. È una festa quando ci incontriamo. Certo, d'altra parte dicevo un attimo fa, parlavamo appunto di una filosofia di agilità mentale, di proiezione verso il futuro, di conseguenza voi per primi avete dovuto, voi intendo come consiglio di presidenza, ha tra parentesi consiglio di presidenza rinnovato con elezione plebiscitaria all'unanimità il giovedì scorso, tra l'altro in un'assemblea online, come consiglio di presidenza vi siete trovati a dire bene, allora che cosa facciamo, rimbocchiamoci le maniche, impariamo, per qualcuno è stata anche una novità, impariamo a utilizzare le piattaforme digitali di Zoom e tutto quello che serve per potersi collegare e proiettiamoci anche noi verso il futuro. È stata una bella sorpresa, bella sorpresa e quindi continueremo così fino a che comunque dovranno andare così le cose. Ci auguriamo di ritornare, sicuramente ci auguriamo di ritornare alla normalità, però in questo momento è un calendario di lezioni che rendiamo disponibile per tutto il territorio, prendendo anche dalle lezioni delle altre sezioni, quindi facciamo un'ora al giorno, un'ora il martedì e un'ora il venerdì, cerchiamo di non appesantire le cose, però devo dire che la partecipazione è veramente calorosa e bella. Sì, perché poi è la vera interazione, non sono conferenze unidirezionali, non c'è solo il docente che parla e gli altri che stanno a sentire, c'è vera interattività, io ho partecipato, anche perché forse qualcuno già lo sa, ma io faccio parte di Unelit e mi sto preparando la mia conferenza tra l'altro, per cui ne farò una anch'io, su Alessandro Baricco, per cui sono andato, nonostante il tempo richieda, mi imponga di non essere presente sempre, però sono andato a sbirciare e c'è un bel fermento, c'è una bella attività, insomma c'è vera interazione. Sì, sì, noi facciamo anche dei corsi, ecco, noi facciamo dei corsi, facciamo i corsi di lingue inglese, abbiamo diversi, praticamente c'è da dire questo, che la nostra università è sociale, nel senso anche dei costi, perché noi, la persona si iscrive, paga 60 euro l'anno, con la quota di iscrizione, quest'anno l'abbiamo ridotta per ovvi motivi, però poi può partecipare a tutte le attività, comprese le lingue, e i corsi di lingue durano, d'inglese dura tutto l'anno, quindi veramente con docenti ad alti livelli, e anche madrelingua, e abbiamo anche il corso di francese, il corso di tedesco, il corso di spagnolo, qualora ci fossero gli iscritti, e poi dopo, quando le nostre lezioni non sono a monotema, ma sono di vario genere, medicina, letteratura, una volta un giorno medicina, sia letteratura, storia, storia dell'arte, filosofia. C'è questo centro studi filosofici? Dentro sì, c'è un centro studi filosofici. D'altra parte, Maria Rosa Tommasello viene dalla provenienza, è l'insegnante di filosofia al Mamiani, giusto? Sì, era il Mamiani, e questo centro studi filosofici, prima di tutto ringrazio l'Unilite che da subito ne ha compreso la Valenza, e quindi immediatamente, quello che poi è il socio onorario, Sergio Pretelli, che è stato per trent'anni, per più di trent'anni, presidente dell'Unilite, ma anche Giorgio Bacheschi, ne hanno subito colto la Valenza, e quindi l'hanno ospitato, ha formato un gruppo di docenti di filosofia, che prima si incontrano durante l'anno, studiano un tema, e poi ognuno declina il tema a modo suo, sempre in ambito filosofico, con delle conversazioni rivolte al pubblico, che si tengono presso la sala del Consiglio Comunale ogni anno. Abbiamo quelle 5-6 conversazioni, una al mese, e devo dire che sono veramente un fiore all'occhiello dell'Unilite, perché comunque, essendo una conversazione, è un'introduzione di un tre quarti d'ora del relatore, e poi c'è questa assemblea che interviene, con la modalità della conversazione, quindi anche di sfatare questo mito della filosofia, solo come per persone addette al mestiere. Sì, perché filosofare è dell'uomo, insomma. Certo, certo. Sì, poi vorrei dire che, insomma, Aristotele ricordava che il migliore viatico per la vecchiaia è la cultura, e quindi noi ci teniamo che tutto questo, insomma, arrivi possibilmente a tutti. Io sono sicuro che in visione, ecco, stiamo vedendo una foto che anticipa quello che stavo per dire, qualcuno dirà, ma dove ho visto? Già qualcuno ci sarà, dei tuoi allievi, ex allievi, qualcuno avrà seguito le iniziative di Unilite, eccetera, e qualcuno dirà, ma io ho visto già in televisione. Sì, perché Rossini TV ha mandato in onda uno degli eventi che è stato sviluppato con Unilite. L'idea è stata quella di conferire una laurea a Pasqualone, a Odoardo Giansanti, detto Pasqualone, due anni fa al Teatro Sperimentale. Abbiamo fatto questa manifestazione nella quale è stata, appunto, conferita questa laurea ad honorem, e poi, come dico sempre, per scherzo, in un dialetto maccheronico ad memoriam, che non va bene, ma è voluta. E in quell'occasione, appunto, c'è stata questa manifestazione costruita come fosse un vero e proprio momento di conferimento, di laurea, per cui la lezione magistrale e tutto il resto. Mio babbo Carlo, Carlo Pagnini, che salutiamo, mio padre Carlo Pagnini, che salutiamo, che è sicuramente in visione in questo momento, interpreta e interpretava con l'occasione Pasqualone, visto che Pasqualone era giustificatamente assente, e ci siamo divertiti, diciamocelo. Sì, è stata una serata, direi, eccezionale, particolare, perché allo sperimentale era pieno. Era pieno. Ecco, in questa occasione è stato proprio pubblicato questo libro, Il Pasqualone del XXI secolo, e Carlo Pagnini ci ha regalato veramente una serata bella, veramente sotto tutti i profili, con l'aiuto del Comune, è chiaro, Certo, banca di Pesaro, amica di... Abbiamo pensato che, cioè, non poteva non essere Carlo Pagnini a fare tutto questo, ma dare così questo Laura Donorem a Pasqualone è sicuramente un riconoscimento doveroso per Pesaro, al quale ha dato tanto. Ma su questa, l'Unilitte ha proprio come scopo di promuovere cultura, e quest'anno abbiamo pubblicato un altro libro, Fermignano, da Castrum... La telecamera è quella, per cui fallo vedere bene la telecamera. Da Castrum ad autonomia, da Castrum a comune, un'autonomia conquistata, e che, appunto, a cura dell'Unilitte, a cui hanno partecipato i soci, e hanno scritto proprio i soci dell'Unilitte, con una ricerca storica di alto livello. Poi vedo che ce n'è un altro, col quale poi ci salutiamo, perché il tempo è volato e ci siamo già. Sì, ecco, quest'altro è coscienza individuale, coscienza collettiva, nella società contemporanea, ed è stato fatto, quest'anno proprio ultimamente è uscito, si trova in edicola, in libreria, in collaborazione con l'Università degli Studi di Urbino, con la SFI, anche, che è il Centro Studi Filosofici di Pesaro. Quindi qui all'interno si trovano una raccolta di saggi, tra cui le nostre conversazioni filosofiche. E questo veramente ci rende orgogliosi, perché promuovere cultura significa, in qualche modo, fare ricerca continuamente, e rendere i nostri soci protagonisti, protagonisti. Bene, molto bello. Io sono convinto che abbiamo dato una bella immagine, abbiamo fatto capire, finalmente, a quelli che magari ancora distrattamente non lo sapevano, che cos'è Unilit, e soprattutto, in relazione anche al fatto che Rossini TV ogni tanto riprogramma la serata della laurea Pasqualone, a questo punto, quando vedono la scritta Unilit, finalmente sapranno anche di più. E naturalmente, tutti quelli che fossero interessati ad avvicinarsi a Unilit, sappiano che c'è un sito, che è Unilit, lo cercate e lo trovate. Sì, basta siglare Unilit. Esatto. E lo trovate, e attraverso quel sito potete mettervi in contatto anche per avere, in questa fase dell'online, il link per connettervi alla piattaforma Zoom, che in questo momento è aperta. Certo, certo. Per cui, è anche un buon sistema, un buon modo per prendere visione, prendere atto di quello di cui abbiamo parlato, e magari scoprire una realtà alla quale ancora non avevate avuto modo di avvicinarvi, e che invece potrebbe essere anche interessante per voi. La nostra sede è a Pesaro, via Zanucchi 12, proprio nel centro storico, perché noi, ecco, un'altra caratteristica, vogliamo valorizzare il centro storico di Pesaro, e quindi ci teniamo a tutto questo. la sede è aperta? La sede, la segreteria, è aperta tutti martedì e tutti giovedì dalle 10 alle 12. Ecco, quindi potete venire, benissimo, anche per prendere il nostro va de me, come che comunque vi illumina su quelli che sono, vi tiene aggiornato sui programmi. È sempre valido. Grazie, grazie di tutto. Bene, allora, Maria Rosa Tomasello è stata con noi, grazie, grazie veramente. Noi siamo pronti adesso per andare in pubblicità e durante la pubblicità faremo il cambio sedia come facciamo ormai tutte le puntate con il secondo ospite che sarà Emanuele Petrucci, sindaco di Monbaroccio. Restate con noi. Ed eccoci qua allora con il preannunciato Emanuele Petrucci, sindaco di Monbaroccio. Buongiorno sindaco. Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Come va? Come va? Molto bene. Monbaroccio, tutto ok? Tutto ok. Allora andiamo a vedere un paio di cose. Innanzitutto il librone, il librone è nato 5 gennaio, giusto? Esatto. Ci ho preso, lo chiedo sempre perché non si sa mai, perché è vero che ormai oggi i segreti ce ne sono pochi, Perché bisogna andare a vedere, Facebook, e poi vabbè un ruolo istituzionale c'è scritto anche nel sito della Giunta, tutto quanto. Però sai, è sempre possibile l'errore. tema ricorrente filo conduttore il 5 gennaio è il giorno della ripresa, non so bene cosa voglia dire. Tema ricorrente filo conduttore della vita dei nati il 5 gennaio è quello della ripresa. Incapaci di restare a terra troppo a lungo mostrano sovente di avere una straordinaria capacità di recupero, riuscendo a ristabilirsi in un lasso di tempo più o meno breve da situazioni spiacevoli sia di natura personale sia sociale. Poi va avanti, comunque poi vabbè. I nati in questo giorno però, Cristian De Sica, Umberto Eco, Diane Keaton e Hayo Miyazaki, il regista animatore giapponese. Pregi serio, coriaceo e pieno di risorse. Questo per un sindaco è una bella cosa. Emanuele, nome di origine ebraica, significa Dio con noi. Insomma, il quadretto l'abbiamo fatto tutto, sindaco. Sindaco dal 27 maggio, in realtà è il primo mandato ma già assessore dal 2009. Ho fatto 3-4 mesi di assessorato nel 2009 poi mi sono dimesso da assessore e sono rimasto come consigliere. Ho fatto 5 anni come consigliere di maggioranza nel 2014 poi consigliere di minoranza capogruppo ma era un capogruppo ero da solo quindi me la cantavo e me la suonavo. il capogruppo di se stessi è sempre una delle situazioni migliori. Sì, da noi sono 10 consiglieri in tutto quindi 3 gruppi consigliari il mio era il terzo arrivato e quindi ho fatto il capogruppo di minoranza da solo e poi oggi sono il 27 di maggio sindaco del mio bellissimo comune. Bene, infatti un bellissimo comune è un comune importante del territorio molto celebrato molto nominato 2.000 abitanti poco più di 2.000 abitanti circa tra l'altro è in risalita un po' ho visto c'è stata una flessione poi dopo sta risalendo un pochino insomma diciamo che il covid non ci ha aiutato però c'era stata una crescita e adesso purtroppo una leggera decrescita nel 2020 perché purtroppo gli anziani da noi un pochettino in particolar modo nella casa di riposo RP Biato Sante hanno un po' sofferto quello che purtroppo è stato questo dannato covid certo certo ne parleremo dopo è un comune famoso a livello nazionale con questo Natale che non ti aspetti di questo parto delle proloco esatto con Damiano Bartocetti che è venuto tra l'altro il nostro ospite prima di Natale e che ci ha raccontato insomma anche questa soluzione alternativa all'idea perché il Natale che non ti aspetti ricordiamo era una manifestazione è una manifestazione che è riuscita ad attrarre veramente un numero molto alto di visitatori da tutta Italia e non solo proprio creando un circuito di attività legate imperniate in qualche modo su Monbaroccio ma legate a tante altre cose che succedevano nel territorio naturalmente tutto questo si ferma come tutto il resto però non vi siete arresi dico vi siete perché proloco e comune collaborano assolutamente sì ma poi come con Damiano che è un treno con tutti i volontari che comunque sono la nostra forza non potevamo arrenderci al covid e quindi dovevamo continuare a portare avanti quella quell'idea quel percorso gioco forza con quella che era la situazione del virtuale pertanto l'abbiamo proposta è andata bene un grazie sincero e di cuore alla proloco a tutti i volontari perché si sono adoperati in tutto e per tutto ma poi è continuato con con la Befana con le calze che abbiamo consegnato a casa cioè c'è stata una continua evoluzione della cosa per poter farsi di avvicinare l'amministrazione la proloco il volontariato alle difficoltà che si vivono dentro le case in particolar modo ai bambini nonché agli anziani certo c'è un po' il detto di necessità virtù che è sempre stato un detto magari lasciato lì nell'angolino questo covid lo sta facendo rispolverare a tanti addirittura non solo come rimedio e come ripiego abbiamo sentito prima la presidente di Unilit che diceva sì è vero non è la stessa cosa però comunque abbiamo aperto una nuova via voi lo stesso abbiamo sentito la conferenza stampa su Rossini TV del carnevale di Fano che verrà proposto in maniera virtuale è vero non è la stessa cosa però si aprono nuovi scenari anche in questa logica dell'online e magari si scoprono soluzioni dalle quali poi magari che accantoneremo quando si potrà tornare in presenza però soluzioni non solo rimpieghi giusto? qualcosa rimarrà qualcosa nella negatività della pandemia qualcosa ci rimarrà io penso anche alla comunicazione che potremmo avere con i nostri anziani magari per poter rivedere di più una videotelefonata piuttosto che una presenza può tenerci comunque vicini e quindi tutto un percorso che io non amo tantissimo il virtuale sono molto legato al rapporto personale quindi al toccarsi al vedersi a stringersi la mano però se penso che una riunione oggi la possiamo fare anche come sindaci o come figure proposte istituzionalmente anche in videoconferenza per accelerare il tutto ciò ci in parte ci agevola naturalmente cerchiamo di vedere il poco del buono che ci rimane da questa pandemia quello sicuramente il poco del buono scendendolo dividendolo e tenendolo da parte e mantenendolo per quando in realtà poi potremo tornare a salire sui nostri palcoscenici lo dico perché palcoscenico Marche che invece è un'iniziativa recente e che sta girando appunto su tutti i canali social e sulle televisioni ha fatto tappa anche a Mubaroccio esatto e questo ci ha fatto immenso piacere siamo entrati come cenerentola nella famiglia di Amat l'anno scorso una scelta che abbiamo voluto fin da subito come amministrazione e questo ci ha premiato ci ha reso orgogliosi di questa famiglia che si è creata sulla quale ci siamo inseriti perché a fronte di quella che è una riqualificazione del nostro teatro grazie a Amat anche limitato perché purtroppo poi a marzo abbiamo dovuto sospendere quelle che erano iniziative che avevamo intrapreso con loro c'è stato comunque una bella realtà che con palcoscenico abbiamo vissuto grazie alla fondazione della Cassa di Risparmio Amat stesso a tutti coloro che hanno collaborato e vivere Mombaroccio in forma virtuale perché poi questa è stata anche una conseguenza di quelle che sono state le rinunce dovute ad Amat è stato per noi un valore aggiunto con Lucia Ferrati c'è un rapporto importante e premiante soprattutto per noi perché ci ritroviamo a crescere culturalmente grazie al loro apporto ricordiamo che palcoscenico Amat è un circuito sostanzialmente un percorso che va attraverso viene scoperto attraverso una serie di mini documentari della durata intorno ai 10 minuti nei quali però viene affrontato in maniera molto approfondita la conoscenza appunto di alcuni territori è un prodotto artistico io direi risultato appunto da delle collaborazioni importanti come quella della fondazione Cassa di Risparmio di Amat e tanti altri che poi andrete a vedere lo potete anche vedere sul web ma lo vedete anche in passaggio sul nostro canale su Rossini TV c'è in qualche modo la logica di entrare in una specie di circuito però si entra insieme ad altri comuni in un percorso di eccellenze assolutamente fare rete e fare rete questo che premia il territorio non solo in loco ma anche fuori perché stare insieme unirsi condividere condividere anche le difficoltà e risolverle insieme premia premia in un'ottica di obiettivo questo è stato il percorso culturale ma penso a quello sociale penso a quello economico visto le difficoltà che hanno le aziende adesso c'è questa necessità di offrire e portare a casa quella che è la banda larga la fibra necessità che il territorio ha e che portiamo a casa grazie anche al supporto degli altri sindaci perché non nego che abbiamo mandato una lettera condivisa noi Vallefogli a gradare altri sindaci al ministero e questa è stata importante perché abbiamo ottenuto una risposta e fortunatamente almeno a Monbaroccio la fibra nel 2021 la dovremmo avere almeno per quanto riguarda il percorso industriale che soffre una competitività del 30-40% rispetto ad altre realtà che hanno la fibra e non possiamo permetterci nel 2021 di avere questo gap aziendale dovuto a una mancanza che dobbiamo superare in tutti i modi e qui l'amministrazione deve venire incontro perché non dimentichiamoci un aspetto che abbiamo sottolineato anche con altri sindaci cioè da una parte è vero che noi cerchiamo attraverso questi momenti di conoscenza del territorio di far notare e far scoprire appunto un territorio e addirittura come nel caso di un palcoscenico farlo apparire come un posto da visitare però quando si è sindaco di un territorio si deve anche pensare a chi in quel posto ci abita sempre quotidianamente tutti i giorni non è solo un posto da andare a vedere quando abiti da un'altra parte e poi dopo la sera torni a casa tua no è un posto in cui l'amministrazione deve curare gli interessi e la vita quotidiana di quelli che hanno scelto o non scelto comunque che vivono in quel territorio e soprattutto devono anche possibilmente lavorarci non solo dormirci e di conseguenza questo discorso è una banda larga ma sicuramente immagino che insomma ce ne siano tanti di temi assolutamente sì noi siamo rinomati anche perché nel nostro territorio si mangia bene quindi tutte le difficoltà legate alla ristorazione ai bar alle attività produttive che fortunatamente in parte essendo un territorio agricolo il nostro un po' è riuscito a sopperire perché l'attività agricola in parte è potuta continuare però abbiamo bisogno di dare una risposta e da noi essendo anche un territorio costituito da persone in particolar modo anziane il 35% e sopra i 65 anni non anziane diciamo un po' meno giovani perché se non vorrei offendere nessuno bisogna avere una risposta una risposta che parte dall'RSA Bricciotti su cui insomma ci stiamo interfacciando dall'RP Beato Santi che è una struttura che è un fiorolocchiello per quanto ci riguarda perché dà una fortissima assistenza a quelle che sono le persone in difficoltà e al punto prelievi che abbiamo bisogno di riaprire assolutamente nel breve tempo e a dare una riqualificazione al centro storico perché anche da lì può passare un bel input per queste figure certo e nella vita quotidiana naturalmente si inserisce e travoge il Covid al quale voi avete fatto fronte però anche con un bel lavoro di screening a tappeto assolutamente il primo screening l'abbiamo fatto a maggio il secondo screening fra ottobre e novembre il terzo ci siamo assecondati giustamente a quel bel lavoro che ha fatto la regione sui territori e non ultimo l'abbiamo cominciato fatto a scuola a metà gennaio siamo intervenuti sulle scuole sono delle immagini tra quelle che hai mandato sono stati meravigliosi questi ragazzi perché vede questo è cos'è questo? questo è un dono che hanno fatto le insegnanti ai bambini laddove oggi sei campione di coraggio certo perché il tampone è molto fastidioso per un bambino confermo guarda io l'ho fatto confermo che il tampone è un bel fastidio questa cosa che ti va su a e quindi hanno deciso di premiare i ragazzi qui invece cosa fai? fingi di farti il vaccino voglio sperare questi sono i primi sierologici magari ah i sierologici il vaccino ha il suo tempo e appunto facciamolo fare chi è sul campo in maniera questo era il primo sierologico che abbiamo fatto a maggio laddove sono risultato positivo nel senso che avevo avuto il covid qualche mese prima intorno a febbraio marzo quindi da quel sierologico ho riscontrato che i miei valori insomma hanno riscontrato appunto la poi siamo andati avanti con ottobre novembre poi gennaio e poi a scuola adesso lo riproporremo a metà febbraio sto aspettando la risposta della dirigente degli insegnanti per riproporlo comunque a scuola e come stanno i monbaroccesi? i monbaroccesi stanno abbastanza bene abbiamo avuto contagi numericamente in proporzione anche abbastanza importanti ma tutti circoscritti alle famiglie cioè mi trovavo con 5-10 figure di quella famiglia 5-10 figure e quando diventano 30 magari circostanziati in 5-6 famiglie su una popolazione di 2.000 abitanti percentualmente fa un bel rialzo però è circostanziato quindi si riesce a stare limitati no si sono comportati bene a parte i monbaroccesi si sono comportati molto bene il primo periodo è stato più difficile a fronte di quello l'insegnamento ci ha portato a vivere una seconda fase pandemica in maniera abbastanza ligia e seria anche perché i ragazzi delle scuole sono impegnati a fare altro devono fare le mini guide devono fare insomma si devono attivare i ragazzi delle scuole ci hanno insegnato tanto sia nel rispetto delle normative perché se si va a scuola sono i primi a rispettare le distanze e quant'altro ma soprattutto ci hanno insegnato e questo lo devo anche a vari siacucci che purtroppo ci ha lasciato che è stato insegnante e docente mettiamola così dei nostri musei e ha lasciato la sua storia a questi ragazzi a questi ragazzi della scuola secondaria che oggi sono mini guida all'interno dei nostri musei e pertanto il sabato e la domenica ci daranno il supporto per assistere chi verrà ai nostri musei spiegando quello che Varis poi ha raccontato loro abbiamo pochi minuti per parlare appunto di questo fatto qua dei musei delle iniziative che sono state fatte sulla Shoah mi sono segnato il convento del Beato Sante se voi andate su Wikipedia e scrivete Mon Baroccio viene fuori la segnalazione del convento del Beato Sante del museo della civiltà contadina poi c'è l'altro luogo di cui abbiamo parlato il teatro il palazzo del monte insomma ce n'è però dai un paio di minuti per sottolineare questi ultimi dettagli assolutamente abbiamo portato avanti i luci nel buio della Shoah che è un percorso legato al Beato Sante e al ricordo dei giusti le grotte del Beato Sante sono state la tutela e lo scudo per salvare quelle persone dal 41 al 44 e pertanto vige e dobbiamo portare avanti quello che è il ricordo di quelle situazioni in particolar modo abbiamo deciso di portare avanti quello che è la memoria delle persone giuste che hanno salvato quelle famiglie quindi porteremo avanti questo percorso legato tantissimo al Beato Sante laddove anche tanti pesaresi e tante persone del territorio trovavano conforto ristoro e sicurezza a fronte di quelli che avevano bombardamenti e tutte le difficoltà che potevano avvenire in quel periodo usato la civiltà contadina dell'arte sacra la chiesa di San Marco sono tutti sono tutti musei che arricchiscono il nostro territorio a livello culturale gestito ottimamente dalla Proloquo e da tutti i volontari e delle foto che sono una più bella dell'altro sono bellissime queste sono le foto delle grotte del Beato Sante questo va bene è il nostro Beato che non è solo una fonte di ritrovo religioso ma è anche una realtà che ci porta al 1223 la realtà di San Francesco è una struttura storica forse la più antica che abbiamo sul territorio quindi e questo è Palazzo del Monte questo è l'obiettivo primario che ci siamo dati come amministrazione qui ci dovremo trovare nell'ottica di questo percorso al piano secondo qui in alto dove vedete i due tetti simmetrici ci piacerebbe portare il museo multimediale legato a luci nel buio e tutto quello che è il museo scientifico al piano centrale ci piacerebbe portare gli uffici amministrativi al piano sottostante quelle che sono le realizzazioni della riqualifica delle attività produttive laddove l'amministrazione diventa anello fra il sociale e il culturale e le attività produttive una volta mi ricordo che quando si andava un po' a passeggiare in questi posti magari in orari sbagliati molto silenziosi la domanda ti viene ma qui cosa fanno tutto il giorno e invece conoscendo i sindaci del territorio si scopre che ce n'è da fare e non bastano le giornate assolutamente 24 ore sono poche 24 ore sono poche allora noi ringraziamo il sindaco di Monbaroccio per essere stato qui a raccontarci un po' del suo territorio ma ce ne sarebbe tanto ancora da fare ma non è detta che appunto una volta finito il primo giro a Casa Rossini non si decida di entrare un po' più nel dettaglio magari prendendo ogni volta uno spunto particolare e rifare tutto il giro perché poi la nostra provincia ha veramente tanto da raccontare e attraverso le figure dei sindaci e di quelli che sono coinvolti nell'amministrazione questi racconti palpitano fanno arrivare sicuramente tutto quello che è il fermento della vita nei territori grazie ancora grazie a voi noi stiamo per andare in musica dovrebbe esserci anche il risultato del sondaggio oggi abbiamo fatto un sondaggio molto divisivo sai quei temi importantissimi quelli che dividono le persone messaggi vocali o di testo questo qui è allora pare che siano preferiti i vocali ahimè io l'ho detto che preferivo gli altri però pare che siano preferiti i vocali dal 67% contro il 33% per i messaggi di testo salutiamo tutti quelli che stanno interagendo con noi attraverso i nostri contatti social segnaliamo in particolare Rita che salutiamo Andrea, Silvia, Giovanni, Stefania e vogliamo anche fare ricordare un appello che stiamo facendo ai musicisti e agli artisti del territorio se avete prodotto dei videoclip belli televisivamente parlando e musicalmente naturalmente e soprattutto trasmissibili perché ovviamente c'è anche un piccolo controllo sulla qualità delle immagini che non siano troppo violente forti insomma non adatte all'ora nella quale le trasmettiamo contattateci attraverso i numeri che avete già imparato spero a conoscere e segnalateci appunto i link magari se ce li avete già su YouTube noi li manderemo in onda per esempio così ha fatto il nostro amico Mauri Insen che è già stato anche ospite nostro e che non è solo scrittore ma è poeta e attore dialetale ma è anche musicista non ha una grande stima di se stesso perché il video che propone si intitola Idiota Idiota da Mauri Insen poi ci vediamo subito dopo col prossimo ospite Roberto Bartolini a dopo io quei soprannomi sono sempre stato avanti ne ho dati a tutti quanti fino a 26 anni creativi creatini di certo mai scontati graditi odiati o sono sopportati era solo il mio modo di manifestare affetto il cioccolato dolce già rinchiuso dal confetto e adesso l'ammetto c'è chi mi ha superato usa questo nomignolo che pare inappropriato di solito un insulto ma subito ho capito è stato un invito per niente è forbito ma molto più sincero di qualsiasi mano tesa un'avventura folle riposava già in attesa e ora il sipario si apre per noi anime semplici e supereroi lei mi chiama idiota io non so che dirle solo che la guardo e rido come un imbecille lei mi chiama idiota nonostante ciò sento che è la cosa più importante che ho lei mi chiama idiota o a volte deficiente a volte ride basta senza dire proprio niente mi prende per il culo perché mi ripeto spesso ma è pronta ad alzannare chi mi manca di rispetto le parlo d'amore le alza gli occhi al cielo perché mi preferisce quando sono più sincero non cede alla cazzata già preconfezionata disbetica dolcissima tutt'altro che domata zero concerti rock ci sbagliamo una comedia primo o secondo atto senza azzarsi dalla sedia e dopo che figate i nostri scambi di opinioni ciò che ci ha divertito che ci ha fatto due elogioni possiamo essere quello che vuoi qualsiasi cosa accada ad ora in poi lei mi chiama idiota io non so che dirle solo che la guardo e rido come un imbecille lei mi chiama idiota nonostante ciò sento che è la cosa più importante che ho lei mi chiama idiota la botte lo sai non darla per scontata mai lei oggi c'è c'è sempre per me e ora si pari si apre per noi lei mi chiama idiota io non so che dirle solo che la guardo e rido come un imbecille lei mi chiama idiota nonostante ciò sento che è la cosa più importante che ho tanti nomi conosciuti in questo video appunto maurinsen idiota riprendiamo invece la nostra trasmissione con il terzo ospite Roberto Bartolini buongiorno Roberto buongiorno buongiorno a te buongiorno a voi allora Roberto Bartolini richiede una spiegazione sul ruolo e sul motivo per cui è qui con noi da LinkedIn io rilevo counselor dell'asso counseling coach formatore grafologo prima missione il benessere della persona lavorare sulla consapevolezza di sé la chiave per affrontare qualsiasi sfida e questa è un po' l'impostazione che su LinkedIn dai di te stesso sì allora io nasco come grafologo circa 30 anni fa successivamente in seguito ad un libro che scrissi facendo una correlazione tra il modo in cui noi scriviamo in un foglio e la comunicazione non verbale in cui è possibile rilevare alcune categorie questo libro venne andò in mano all'amministratore delegato direttore generale di idea management di Milano che è una società che si occupa di valutazione e sviluppo manageriale e mi chiamarono per tenere un corso di grafologia a un corso di aggiornamento agli psicologi interni e da lì cominciò una collaborazione io all'epoca già lavoravo come counselor grafologo e mi incuriosì molto il fatto che fondamentalmente i manager che valutavo erano persone che comunque avevano delle difficoltà e allora l'associazione tra l'efficacia manageriale e il benessere individuale è stata immediata tra le altre cose non ho mai smesso di occuparmi anche di counseling quindi di dare supporto a chi magari si trovava in un momento di difficoltà e la cosa simpatica era che rilevavo sempre questa forte correlazione tra benessere individuale e benessere manageriale e allora da lì il fatto di arrivare ho linkato il fatto di capire che se la persona non sta bene il manager sta ancora peggio e credo che dovrebbe essere un po' la missione di tutti quella di ricercare il benessere anche personale però mi viene da farti una domanda tanto per ripercorrere un po' la storia no no ma così per divertirci un po' se fermiamo 10 bambini piccoli delle elementari ma anche 100 secondo me nessuno mi dice che da grande vuol fare il grafologo allora qui c'è qualcosa da raccontare sicuramente c'è una storia da raccontare non ce la caviamo semplicemente dicendo ho scritto un libro di grafologia eccetera noi abbiamo qui una persona che ci viene a parlare di grafologia ma una storia allora diciamo che l'interesse per la grafologia parte che ero poco più che ventenne perché per vicissitudini varie mi trovai ad avere a che fare con una grafologa e veramente rimasi impressionato da come riuscisse a individuare aspetti di me all'epoca che non avevo neanche ben in mente no vent'anni poi era un periodo in cui avevo il mito di chi viaggiava e infatti poi da lì a poco partii con un sacco a pelo e me ne andai in giro per il mondo però questa cosa mi era rimasta sempre un po' nel retropensiero no cioè come da poche righe in realtà mi discrisse in un modo talmente evidente ponendo anche degli accenti su aspetti che in un certo quel modo mi sentivo un po' familiari ma che non riuscivo proprio a focalizzare perché vent'anni erano comunque vent'anni rientrato da il mio pericrinare in giro per il mondo come ti avevo anticipato fino ad arrivare in Alaska proprio dentro è già questo dell'Alaska ma ha conquistato perché non so per che motivo ma io ho un trasporto emozionale nei confronti di posti dove non sono mai stato per esempio uno di questi è l'Alaska Anchorage in particolare del quale mi domando sempre come vivono cosa fanno quelli Anchorage queste persone con questo sguardo molto profondo molto particolare di chi riesce ad andare oltre e poi gli acciai gli acciai che avevano dei colori incredibili dal violetto all'azzurro al verde e poi ho in mente questa immagine della danza delle balene al tramonto cioè delle cose che dico mamma mia io sono proprio dentro un film però da lì si torna da lì si torna da lì si torna da lì si torna e rientrando insomma avevo proprio l'esigenza di capire qualcosa di più di me e ad Urbino c'era questo corso diretto a fini speciali all'epoca poi è divenuto laurea poi con la legge Moratti è stato cassato purtroppo e c'era una selezione durissima per entrare perché prendevano 30 persone l'anno quindi era numero chiuso ne eravamo più di 100 e rientrai fortunatamente da lì partì la mia come dire il mio approfondimento per tre anni di studio non ho mai più scritto a mano e mi ricordo che tutte le volte che tornavo a casa e guardavo la scrittura di mia moglie a seconda di quello che imparavo ogni volta era ma io non so come ho fatto veramente ad innamorarmi di te e la volta successiva ah no 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 adesso ho capito quindi è stato veramente uno studio estremamente appassionante perché non è non si tratta di guardare due segni o due simboli si tratta veramente di entrare all'interno dell'animo umano e cogliere quella che è la peculiarità di ogni animo umano non esistono scritture belle o scritture meno belle ci sono le scritture che sono un po' una sorta di impronta digitale no dell'individuo perché anche le scritture che sembrano simili ad un occhio inesperto in realtà hanno sempre quella particolarità che distingue l'una dall'altra e la grafologia rimane tuttora una mia grossa passione anche nelle mie attività è chiaro che il colpo d'occhio dopo 30 anni no un po' lo si sviluppa e questo mi è sempre servito per come dire avere un accesso più facilitato per entrare in contatto con chi avevo di fronte sempre nel massimo rispetto nel senso che appunto se io guardo ogni volta la mia scrittura in un ridisco nel senso che nonostante io abbia provato a costruirla no proprio con estremo atto di volontà in realtà non si sfugge ecco se un testo praticamente è il gesto più sincero che noi possiamo fare come mai è il gesto più sincero perché nella produzione di un di un atto scrittorio di una di una parola entrano entrano in funzione tutta una serie di strutture che passa tutto il cervello e quindi anche il mondo emotivo noi possiamo del cervello distinguere tre parti la parte più antica che è quella spinomidollare che risponde un po' ai bisogni primari quindi la difesa la riproduzione la sopravvivenza eccetera il secondo cervello è quello emotivo quindi la parte limbica quello delle memorie quello che registra tutto quello che nonostante noi crediamo di star bene poi improvvisamente ci viene un attacco d'ansia o peggio ancora di panico e non sappiamo neanche il perché in realtà c'è stato qualcosa che che ha portato ha fatto riemergere quello che viene chiamato uno stato di pendenza cioè un'esperienza che per me è stata traumatica e può essere un odore può essere un arco sopraccigliare può essere qualsiasi cosa e entra in azione e poi la parte più evoluta che appunto è la corteccia cerebrale che è quella della ragione del di tutto quello che riguarda il pensiero la decisione pensiero prospetti con l'innovazione e nella scrittura c'è tutto perché i centri che vengono coinvolti passano è un costante colloquio tra i vari centri per poter ad esempio coordinare l'occhio con la mano perché noi non ci rendiamo conto ma produrre un ovale un rotondo una lettera ovale rotonda è uno dei gesti più complessi che l'uomo sia in grado di compiere ecco perché sarebbe molto importante mantenere la scrittura a mano perché con la scrittura a mano si vanno a linkare tutta una serie di connessioni cerebrali neuronali che diversamente noi non andremo ad attivare perché un conto è pigiare un tasto un altro conto che volevo arrivare poi dopo parliamo del tuo libro che hai importato che poi è il focus anche di quello il mallupazzo esatto però lì volevo arrivare cioè oggi che si scrive sempre meno a mano io per esempio penso a me stesso da quando ho finito l'università ormai molti anni fa 40 anni fa sostanzialmente non penso di poter dire di aver più scritto a mano sì devo compilare i bollettini con grande fatica e con la lingua di traverso come si fa quando si fa qualcosa di complicato le firme che si deteriorano dopo tre firme e non sono più riconoscibili e pochissimo altro come me credo che siano in tanti assolutamente e in quel caso che si fa? ma in realtà l'impronta rimane comunque cioè sia che tu porti dei guanti sia che tu vai a mano e qua è un po' la stessa cosa è chiaro cioè la ricerca va comunque avanti ad esempio nei giovani d'oggi è molto più facile trovare delle scritture in stampato piuttosto che non in corsivo certo ecco ma di fatto come una persona si posiziona nello spazio il calibro grande o piccolo l'inclinazione delle lettere cioè delle categorie comunque rimangono assolutamente equiparabili la sincerità del gesto resta assolutamente e te sei in grado di indagarla un grafologo certo per cui anche in questo caso qua sì diciamo che ci sono appunto delle accortezze no ad esempio azzardare qualsiasi considerazione su uno scritto non sufficientemente ampio sarebbe contro ogni etica deontologica professionale quindi è bene avere più saggi grafici diversi momenti anche per ricostruire un po' la storia quando ci sia la possibilità di avere reperti no magari più datati degli anni precedenti quindi vedere anche un po' l'evoluzione che c'è stata così come ad esempio facendo un un'analisi del testo semantico ognuno usa delle parole specifiche e il fatto che io preferisca alcune parole piuttosto che altre già quella è un'indicazione l'interpunzione venusata un po' si dice no le virgole sono dei respiri quindi ognuno la mette come meglio crede quindi ci sono in realtà tutto quello che riguarda il simbolo il segno fa parte della produzione simbolica grafologica in un certo quel modo quindi tutto questo nel libro cioè parliamo del tuo libro sì allora questo è il libro innanzitutto che cos'è l'assessment com'è che si dice grafologico assessment grafologico allora come dicevo arrivai a Milano a Milano appunto in questa azienda la valutazione manageriale la faceva attraverso una metodologia che va sotto il nome di assessment in realtà assessment tutto quello che riguarda la valutazione in questo caso era manageriale ma la possiamo fare anche dell'efficacia dell'ambito evolutivo appunto nei bambini è tutto quello che richiede una valutazione in questo caso si misura la valutazione dell'efficacia dei comportamenti manageriali ossia quanto efficace è un manager a gestire le proprie risorse umane quanto efficace è un manager a risolvere problemi a gestire un gruppo in leadership in programmazione orientamento risultati in iniziativa gestione dello stress gestione dei conflitti tutto questo viene rilevato attraverso una serie di esercizi che vengono erogati individuali oppure di gruppo per vedere proprio questi comportamenti in azione perché la cosa singolare è che l'assessment guarda i comportamenti cioè quello che una persona fa vedere perché è chiaro che quello che rimane in mente è ancora dovremmo avere la palla di cristallo magari ci si può attrezzare però insomma ecco la scrittura è un comportamento e avendo maturato queste due competenze in maniera direi piuttosto significativa e avendo avuto tanti contatti anche con questi manager no io l'assessment l'ho erogato in tutte le più grandi aziende italiane dall'esercito a ufficio italiano cambi banca d'italia ferrero barilla eccetera eccetera quello che rilevavo era questa necessità da parte della persona quindi del manager nel momento in cui restituivo i risultati perché c'è prima la parte della valutazione poi la restituzione dei risultati di sapere qualcosa di più no perché poi tutto è uno se noi consideriamo allora vediamo una persona che è particolarmente orientata agli obiettivi e poi però ha un modo di gestire i collaboratori assolutamente disfunzionale allora diciamo che quello è un manager del cavolo cioè poco efficace perché è vero raggiunge gli obiettivi ma poi si gira e trova una marea di morti ecco è chiaro che questo non va bene rimanendo lasciando fermo il fatto del forte orientamento agli obiettivi è chiaro che si può andare a lavorare sulla gestione dei conflitti ad esempio gestione dei conflitti che è collegato con una serie di altre capacità ad esempio la capacità di ascolto perché è chiaro che se io penso sempre di aver ragione è difficilmente riusciremo a risolvere un conflitto no ecco c'è il famoso modo di dire la gente non ascolta aspetta il suo turno di parlare quindi diciamo che c'è questa sorta di connessione tra i vari comportamenti che in realtà io nella scrittura io qualsiasi raffologo ferrato riesce assolutamente ad individuare fino ad arrivare a quella che Moretti che è il caposcuola del metodo che io ho studiato marchigiano tra le altre cose il Mondolfo fino ad arrivare a individuare la passione predominante che è quel tratto fondamentale su cui da cui nascono prendono origine si qualificano tutti i comportamenti quindi in realtà una volta individuata la passione predominante lavorando su quell'aspetto automaticamente è come un po' come che si chiama quando muove una pedina e tutto il resto il domino il domino ecco le tessere del domino no come le tessere del domino automaticamente tutto migliora anche perché nella mia ottica il vero potenziale di una persona è in quello che crede di non saper fare o che al momento gli viene male perché è una cosa che la sa fare è importante renderla consapevole perché quello diventa un po' l'architrave del suo percorso ma il vero potenziale è su quello che al momento non ci viene bene e quindi da tutta sta diciamo assembramento di rilevazioni mi è venuto in mente di costituire di dar vita a uno strumento nuovo che coniughi diciamo l'osservazione nella puntualità dell'assessment quindi della valutazione con la forza informativa grafologica è per questo che l'ho chiamato assessment grafologico e questo libro per chi è? oh allora questo libro indubbiamente non è come un romanzo cioè è inutile dircelo questo se qualcuno soffre di insonnia e non è interessato né alla grafologia né lo può prendere è perfetto comunque direi che assolve tranquillamente la sua funzione ecco questo può essere utile per tutti coloro che in qualche modo hanno a che fare con il mondo il mondo del benessere ecco perché è un libro molto ricco questo l'ho costruito tre anni di lavoro molto intensi di grosso approfondimento di grosso studio l'ho pensato sì per i grafologi sì per i psicologi sì per i manager sì per i professionisti ma l'ho pensato anche per chi ha voglia di approfondire alcuni aspetti per chi ha voglia di capire qualcosa di più cioè sapere anche che c'è questa possibilità per potersi conoscere meglio anche una valenza come accrescimento personale assolutamente non solo come utilizzo tecnico assolutamente assolutamente diciamo che ha un pubblico molto ampio sì un pubblico molto cioè facilmente comprensibile a parte alcune alcune parti appunto dove collego magari il segno grafologico agli aspetti neurofisiologici ma all'interno ci sono delle finestre di approfondimento che magari quando si parla di emozioni dà delle informazioni sull'aspetto emotivo da un punto di vista psicologico oltre che antropologico oltre che scientifico e poi ci sono delle sintesi finali per ogni capitolo in modo tale che se una parte è meno interessante basta che si legga quelle e un'informazione ce l'ha e tutte le volte man mano che andavo avanti con la stesura dei capitoli li facevo leggere ai miei figli perché secondo me quello che diventa interessante è fare in modo che tutti quanti possano capire certo io tra altre cose ho tenuto dei corsi all'università dell'età libera e devo dire che avevo chiaramente una popolazione molto eterogenea quindi ragazzi molto giovani ma anche meno giovani donne e uomini pensionati o casalinghe e ti posso assicurare che si appassionavano e diventavano veramente molto bravi quindi ma in fondo se ci pensiamo una casalinga è un manager e forse è il manager perché con tutto quello che deve fare deve gestire quindi anche tutti questi termini un po' li dobbiamo sdoganare cioè sono terminologie che ci danno delle identificazioni specifiche identificano ma ingabbiano un po' insomma ecco quello è il rischio rilassiamoci esatto e questa cosa poi ha dato origine anche alla costruzione di laboratori siccome mi occupo anche di formazione sempre legato al benessere e sempre con la finalità di fare in modo che gli imprenditori e i manager conoscano qualcosa in più di sé perché se un imprenditore è un po' paranoico ossessivo tutta l'azienda sarà con quella identità e quindi baserà tutto sul controllo sul invece prendere consapevolezza e allora qui è nato anche quest'idea del laboratorio mi avrebbero mille domande sicuramente a casa tanti hanno lo stesso in questo momento un turbinio di richieste il tempo vola ci siamo già la domanda che ti faccio in modo che tu possa riportare ai telespettatori e dove ti si trova allora dove mi si trova io ho uno studio a Pesaro in Viale Cialdini 11 però i miei riferimenti sono sui social quindi sia su Facebook che su LinkedIn il libro invece è in libreria il libro allora il libro per scelta perché appunto essendo piuttosto corposo ho deciso di pubblicarlo con una casa editrice specializzata che vende e fa la distribuzione solamente online si può trovare presso nel sito di www.epsiloneditrice www comunque lo cercate col titolo perché l'ho trovato ma anche su Amazon si si ah ok è anche su Amazon ok ok www guarda epsiloneditrice.it slash catalogo libri epsiloneditrice gesto grafico grazie l'ho scaricato ma l'ho tirato giù è lunghissimo ma basta cercare se voi cercate appunto assessment grafologico o Roberto Bartolini ci arrivate e lo trovate questa è la copertina inconfondibile molto molto azzeccata sicuramente con la rosa dei venti che riporta invece alla rosa dei comportamenti vedi che c'è questa associazione tra benessere e malessere no e efficacia e inefficacia e anche qua ho creato questo piccolo modello per far vedere un po' come in realtà già da possiamo cominciare a individuare queste due combinazioni io posso essere estremamente efficace ma se sto male questo viene comunque banalizzato pregato esatto così come io posso stare molto bene ma essere completamente inefficace quindi insomma ci sono all'interno c'è un po' c'è da divertirsi guarda io ti lascio e ci lasciamo con una domanda televisiva secondo te le tue competenze e queste cose che ci hai detto potrebbero trovare collocazioni in una rubrica televisiva? assolutamente sì ce ne sono tante assolutamente allora fermati in direzione molto volentieri molto volentieri è una cosa che mi stimola perché come dico gli argomenti e le domande sarebbero tantissime ma poi mi immagino che per ognuno c'è la sua personalizzazione assolutamente assolutamente poi è chiaro se si pensa ad un programma di ampia divulgazione è chiaro che non si può scendere nei particolari però vengono sempre fuori dei stimoli molto carini io volevo ringraziare tra le altre cose Angela Angela Tringali che è il direttore della CDO veramente ha saputo intercettare il valore di questa proposta e stiamo organizzando veramente delle cose molto interessanti abbiamo appena concluso un ciclo di tre incontri dedicato agli imprenditori locali e l'imprenditore antifragile di cui l'imprenditore antifragile sì che è questo termine che ho mutuato da Taleb ed è stata un'esperienza veramente fantastica adesso stiamo raccogliendo i questionari finali per sapere un po' e vogliono tutti proseguire quindi questo c'è molto bisogno di fare di stare insieme di unirci di capire che anche in momenti di grossa difficoltà come quello che stiamo vivendo in realtà si possono individuare delle opportunità ed è quello che stiamo provando a fare e ne sono molto felice grazie Angela grazie a tutti i partecipanti grazie a Gari bene allora noi invece ringraziamo Roberto Bartolini del quale abbiamo scoperto un po' di cose avevo preparato anche qualcos'altro per esempio il nome di origine tedesca splendente di gloria vuol dire Roberto e avevo anche una cosa sul librone per il 13 marzo che è il giorno di nascita ma magari ne parliamo la prossima volta esatto molto volentieri ne parliamo la prossima volta perché sono sicuro che potremmo inventarci qualcosa appunto legato a questo che è un argomento che a casa avrà riscosso sicuramente un enorme interesse me lo auguro buona giornata a tutti grazie a te perché veramente mi hai fatto dimenticare di avere la telecamera davanti e quindi sei stato veramente molto accogliente ma hai proprio messo a mio agio grazie grazie sono molto contento di questo e saranno contenti anche a casa tutti quelli che seguono tutte le mattine è stato con noi Roberto Bartolini ideatore dell'assessment grafologico autore del libro con cui abbiamo appena parlato prima di lui Emanuele Petrucci sindaco di Monbaroccio prima ancora Maria Rosa Tomasello presidentessa Unilit la puntata di oggi si conclude qui noi ringraziamo tutti per essere stati con noi per la prossima diretta ci vediamo venerdì mattina per le repliche ricordiamo l'orario del pomeriggio alle 16 l'orario serale indicativamente alle 22 ma diciamo in terza serata dopo in seconda serata dopo la prima serata che alle volte può essere un po' più lunga per cui pazienterete domani pomeriggio come sempre alle 15.30 invece la terza replica e poi domenica pomeriggio la lunga maratona che prevede tutte e tre le puntate della settimana grazie ancora a tutti i telespettatori di Rossini TV restate sempre con noi e con i nostri programmi e grazie Roberto arrivederci grazie a voi di nuovo a tutti